Siamo a San Cataldo, alle nostre spalle la Darsena. Sono qui presenti i pescatori e le associazioni del territorio che controllano e vigilano quello che accade e hanno anche diverse proposte da sottoporre all'amministrazione comunale. Dottor Della Valle, qual è la vostra proposta? Beh, innanzitutto come circolo nautico San Cataldo la proposta è quella di fare subito, di fare presto perché anche attraverso il Covid insomma dobbiamo far riprendere lo spirito, l'animo di poter andare a pesca a chi è stato chiuso tanti anni. Soprattutto il pescatore della domenica, diciamo così, soprattutto il pensionato del pescatore che ha diritto di farsi una passeggiata nella barchetta anche con la famiglia e perché no. Però ecco, speriamo e stiamo vigilando perché questi lavori siano fatti innanzitutto bene, perché questa Darsena nasce come un bacino di raccolta quindi è molto difficile la gestione. E quello che mandiamo come messaggio all'amministrazione è soprattutto di pensare all'affidamento di questa Darsena perché assolutissimamente chi pensa che in questo posto ci possa essere un'attività di lucro, di guadagno si sta sbagliando perché si dovrebbe arrivare a contestualizzare, a diminuire quanto più possibile i costi in modo che anche il posto barca sia accessibile a qualsiasi categoria di lavoratori.